una costante della mia esistenza musicale è stata intercettare in tempi sbagliati prematuri di solito alcuni artisti fondamentali jimmy hendrix e fra questi l'ingresso in casa della serie dei concerti è stata una continua folgorazione ogni volta una novità una sorpresa un filo teso da un disco all'altro l'apoteosi di monterey e il live dell'isola di white nelle due versioni disco e videocassetta in mezzo hoodstock i live di atlanta berkeley e winterland alcune splendide compilation di esecuzioni tratte da concerti sparsi grazie a tutti